buonasera eccoci qua mai come questa sera possiamo dire buonasera buonasera siamo qui in questa splendida location in casa del montebello per parlarvi di questa società che sicuramente da come si pronuncia in questa serata farà una grande stagione giusto federica direi di sì adesso questa sera siamo qui in questa splendida location siamo a casa del nostro amico matteo pivotto c'è la presentazione della squadra vedrete un sacco di video quindi vi lasciamo alla puntata tra l'altro iniziamo col botto perché nel nostro sfondo c'è una luna che è qualcosa di straordinario la luna piena non mi trasformerò in lupo ma quasi quasi potrebbe anche succedere bene ci vediamo tra poco e vi presento anche la sorpresa di questa serie insomma che sono franco bertuzzo e federica benacchio che sono conduttori della trasmissione fuori gioco che va in onda il lunedì su tv a vicenza che visto che si parlava un attimo fa di immagine sono due figure che in questo momento portano il calcio direttantistico a livello proprio di immagine vuol dire anche televisiva e quindi questo sicuramente è un valore aggiunto per tutti noi sono parlando il calcio direttantistico perché credo che se ne parliamo forse anche il calcio direttantistico acquista il suo giusto valore la sua giusta importanza beh intanto buonasera ciao a tutti buonasera presidente assessori dirigenti so che alla fine di me non interessa niente nessuno mi interessa federica quindi fate pure l'applauso a lei sono abituato tranquilli non c'è problemi benito tra l'altro è l'unico uomo che è riuscito a conquistare federica negli ultimi dieci anni e ve lo dico assolutamente e cosa dire per me per noi è un piacere essere qua perché comunque si come dice claudio fuori gioco è nata con questo unico obiettivo che non è quello di mettere in mostra io federica ma bensì il calcio nostrano calcio nostrano che ha sempre più bisogno di essere messo in luce perché perché è fatto di persone con la p maiuscola sia chi è dietro la scrivania e sia chi è in campo come ho sentito un po' in maniera frammentata le parole perché poi sono sceso giù a vedere questo paradiso dove dopo si farà il rinfresco e quello che mi sento di dirvi è questo la cosa che proprio per me è fondamentale siate fieri siete orgogliosi siate veramente con il cuore che pulsa e orgogliosi di indossare la maglia del montebello perché io credo che in anni come questi dove sempre di più ci sono difficoltà per noi dirigenti sono anch'io un dirigente in un'altra società c'è bisogno di avere prima di tutto uomini prima che giocatori qua siamo a casa di del mitico matteo che si ha fatto una carriera nella vita è perché ha saputo essere prima di tutto un grande uomo e anche oggi si contraddistingue la serata si sta scaldando la musica sta pompando ed ecco perché abbiamo scelto il presidente abbiamo qui con noi per essere la lei ivan pelizzaro il presidente del montebello buonasera ivan buonasera a voi benvenuto tra di noi grazie ti abbiamo voluto qui intervistato perché ivan perché stasera le sensazioni che abbiamo avuto io e federica sono sensazioni di cuore di calore di senso di appartenenza e più ne sei l'esempio più lampante visto che prima di fare il presidente sei stato responsabile storia giovanile sei stato direttore sportivo di questa società sei qui da una vita praticamente sei fidelizzato dal 2015 sono qui come responsabile storia giovanile poi sono passato direttore sportivo poi ho cambiato aria per due anni e l'anno scorso sono rientrato nelle vesti di presidente ne sono fiero d'orgoglioso anche perché anche perché federica sappiamo che oggi decidere di fare il presidente di una società è un'impresa ardua quindi dobbiamo dare forza coraggio e entusiasmo a queste persone che ci mettono la faccia giusto ivan infatti essere presidente è responsabilità però con un gruppo come che abbiamo a montebello mi solleva insomma ecco molto aiuto e mi fa piacere fare il presidente di questa società tra l'altro da questa sera avrai la nostra benedizione o meglio la benedizione federica che voglio dire porta un sacco di fortuna e speriamo darò fede certo io ve lo auguro i miei migliori auguri in bocca al lupo per questa stagione viva il lupo sempre allora bene bene forza montebello e in bocca al lupo press grazie mille lavori allora siamo qui federica per iniziare questa bellissima serie di interviste partiamo dal giocatore tra virgolette più possiamo dire federica più conosciuto emanuele testardi il giocatore che ha fatto comunque ha un curriculum di tutto rispetto ha fatto anche sette anni se non dai raccontaci un po di te dice cosa hai fatto nella tua vita allora sicamente balla adesso lavoro anche quindi calcisticamente parlando sono cresciuto a pescara quattro anni per poi esordire prima prima squadra la vecchia serie c poi ho fatto sei anni di serie c siracusa arezzo girato un pochino poi ho fatto cinque apparizioni in serie a serie b a lanciano ho girato un po il mondo australia ungheria una vita una vita roiosa esatto e come mai sei finito qui raccontaci un attimo poi da due anni circa dal 2021 vivo in veneto perché la mia compagna è rimasta incinta mi sono trasferito all'epoca giocavo in serie di al girone vicino torino quando è rimasta incinta ho lasciato tutto e anche il calcio è lasciato con quali voglio dire ambizioni sei venuto qui a montebello che comunque rimane una società importante in una categoria comunque di tutto rispetto che la promozione con la voglia giusta con la città giusta sì sì assolutamente sì anche perché mi volevo anche avvicinare un po a casa perché l'anno scorso spinea da lontano e adesso lavorando anche ho cercato una situazione un po vicina e ma dicono che tu sei uno dei leader della squadra o sbaglia no io io sono molto silenzione quindi in campo no però in campo ti fai valere dentro le quinte quindi quindi il ruolo dobbiamo dire il ruolo del bomber facciamo delle promesse spero di fare almeno come due anni fa alla tavola ha giocato con il mister paolo beggio un paolo p è stata un'annata vincente vinto campionato campionato coppa è stata un'annata bellissima fatta di un gruppo molto forte era coeso soprattutto quindi quindi se non erro hai vinto parecchi campionati nel tuo carriera giusto un pochino qualcosa ho vinto qualcosino quindi hai anche capito qual è la miscela giusta per portare entusiasmo all'interno dell'ambiente della squadra per vincere come ho detto prima la prima cosa il gruppo e poi il resto viene tutto in secondo piano e quindi con queste parole di emanuele dove mettiamo davanti la forza del gruppo cosa facciamo che facciamo il nostro in bocca al lupo anche se mi sa che non ha tanto bisogno grazie grande emanuele grazie bene allora federica come si so dire per giocare a calcio bisogna conquistare la palla al centrocampo chi abbiamo qui con noi adesso e allora il montebello ha pensato bene di acquistare un giocatore d'esperienza della categoria e lo presentiamo abbiamo qui il piacere di avere andrea lunardi ciao andrea ciao ciao grazie benvenuto tra di noi grazie allora andrea è una nuova esperienza per te ricordiamo gli amici a casa che ormai ti conoscono vieni da un po di anni a river hill una stagione sicuramente non miglior non delle migliori ma questo sicuramente ti è stato utile per fare esperienza e per diventare ancora più forte questo lo sarà il campo a dirlo adesso sicuramente è lo scorso anno non è stato dei migliori spero che questo sia l'anno della rivale sia mia personale che mi auguro anche della della squadra montebello perché anche a loro una nata benissimo meno male hanno mantenuto la categoria niente parto carico a mille non vedo l'ora di iniziare e di raggiungere come ho detto cosa ne pensi dei tuoi compagni di squadra sono curiosa ma un po già li conoscevo perché comunque ho fatto otto anni di promozione bene o male qualcuno l'ho già incontrato quindi sei già un po con chi hai che fare sì con chi ho a che fare sì li conoscevo solo di nome perché ci hanno giocato contro e spero di fare amicizia ma quando ci giocavi contro li temevi c'è qualcuno con cui hai litigato che adesso te lo trovi spugatonio dai raccontiamo qualche gossip perché a Federica piacciono queste cose diciamo che sia con Goran che con Elia Targoma abbiamo avuto vi siete menati un po sempre stanno nei tempi del calcio ma che adesso voglio intervistare subito glielo chiedo te lo dico menati no però abbiamo combattuto come si suol dire sei contento di averli in squadra o ancora un po certo certo l'anno scorso mi ricordo la partita che abbiamo fatto qui a montebello è stata una partita veramente ostica e loro con la loro esperienza e tutto ci hanno messo anche in difficoltà si può dire e quindi sono un'arma in più e averci a fianco può portare bene quest'anno e sono contento di averli a fianco quindi possiamo dire Andrea che il montebello parte con un centrocampo forte tosto tosto e con questi presupposti possiamo pensare a una stagione propositiva dai io è quello che mi auguro da quando è la prima volta che mi sono incontrato con Matteo Pivotto che sia una rivalsa appunto come ho detto prima e niente non faccio non dico niente ma tra l'altro io so per certo che sei anche uno che sa essere un sano leader all'interno spogliatoio sei anche un casinato uno che è anche divertente no Andrea perché adesso visto qua così con gli occhi hai partato serio e pacato in realtà l'è fuori come un balcone ma allora magari se farei una bella stagione vorrei io da lui in studio me lo auguro io sono uno a cui punta tanto sul gruppo e non vedo l'ora di appunto di farlo divertirmi sia dentro che fuori facile da raggiungere comodi parcheggi gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza un ambiente confortevole in clinica dentale potrai sentirti a casa tua alta specializzazione degli operatori professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria clinica dentale cresciamo insieme a voi è attivo su prenotazione il servizio prelievi per analisi del sangue presso clinica dentale a torri di quartesolo a cura di sin lab direttore tecnico laboratorio sin lab veneto dottoressa cristina lapucci allora innanzitutto sappiamo che per una squadra è fondamentale che il condottiero sia di tutto rispetto e qui federica oggi stasera ne abbiamo uno di giusto ma io lo presenterei ma vuoi farlo tu che sei più brava di me lo chiediamo a lui sono cristian vinoli da quanto sei qui cristian? ma guarda l'esperienza comincia quest'anno perché allenavo fino all'anno scorso a Racchiampo con i ragazzini dell'Under 17 e poi ci è stata chiamata al Montebello di Matteo che mi conosceva, sapeva come intendevo il calcio ci siamo trovati con la stessa idea e ha voluto portarmi qui a Montebello sei corso? sono corso perché guarda sono 16 anni che alleno, ho fatto tutta la gavetta, sono partito dalla terza categoria, ho fatto la seconda, ho fatto la prima e sono arrivato dove speravo di arrivare quando avevo iniziato ad allenare perché il mio obiettivo era di provare la promozione, non so perché ascolta quali sono gli obiettivi per quest'anno? diciamo che la società vuole fare una salvezza tranquilla non come l'anno scorso che sono salvati l'ultima giornata con i play out quindi hanno questo obiettivo di, però soprattutto di lavorare in un ambiente sereno perché l'anno scorso hanno avuto problemi di gruppo, un problema di spogliatoio quindi l'impronta che Matteo, la società, il direttore vogliono dare quest'anno è completamente diverso e cosa ne dici quest'anno della squadra? come l'hai assemblata? la squadra abbiamo assemblata soprattutto come dicevamo prima dal punto di vista umano io ripeto sono una persona che guarda molto il fatto del rispetto umano, del gruppo, del fatto di far squadra, di essere determinati, la passione perché credo che il calcio a questo livello sia passione diceva lui prima di mercenari, è vero siamo in un mondo di mercenari dove si trovano poche persone che hanno passione perché siamo tutti bravi a riempirci la bocca della passione però la passione cos'è? lo spirito libero dovrebbe essere, invece purtroppo c'è gente che per tre mele si vende a... guarda quello che stai dicendo mister mi trovi pienamente d'accordo e sono felice questa sera di aver fatto strada, essere qua e intervistare uno come te che la pensa così e sono sicuro mister che con queste parole, con questi presupposti puoi veramente fare quello che ti meriti cioè fare una stagione da protagonista tra l'altro mister mi piace il fatto che hai fatto la gavetta perché quello che oggi manca è la pazienza di arrivare senza fretta e senza sosta si arriva dappertutto e tu avevi un obiettivo 16 anni fa e 16 anni dopo ce l'hai in mano e sono sicuro che non fallirai certo, assolutamente sì ma noi ti facciamo i nostri migliori auguri poi magari ci vedremo in trasmissione così vorrei trovarci e ci racconterai come è andata questa stagione anche perché mister devi sapere che io e Federica portiamo fortuna è vero alla grande è benissimo ci conto allora in bocca al lupo mister grazie a te grazie Federica grazie grazie abbiamo qui il piacere di avere un giovane di tutto rispetto Federica perché ricordiamo intanto lo presentiamo, salutiamo Stefan piacere vostro Stefan è un ragazzo del 2004, giusto Stefan? sì sì l'anno scorso era il capitano, va sottolineato, il capitano Federica dell'Arzi Chiampo primavera esatto tra l'altro una stagione da incorniziare, giusto Stefan? sì sì ho fatto 14 gol siamo andati anche a disputare i playoff siamo riusciti a passare la prima con il Piacenza mi sembra di ricordare no, contro la Triestina con la Triestina, bravissimo hai sbagliato eh, non sono come Federico Formisano, io sbaglio no, siamo passati e alla fine abbiamo disputato contro la Pergoletese però sfortunatamente non siamo riusciti però quali sono le aspettative per quest'annata? per quest'annata sicuramente fare tanti più gol possibili ed aiutare la squadra nel raggiungere i nostri obiettivi tra l'altro voglio dire avere l'opportunità di passare da una categoria primavera dove fai 14 gol e arrivare in una categoria di promozione dove ti scontrerai con difese molto, molto arcigne difese sicuramente composte da giocatori molto esperti ma immagino che la stagione scorsa qualche partita l'avete fatto anche magari a giovedini amichevole con la prima squadra quindi hai un po' imparato come si comportano i vecchi, no? sì sì quindi qualche astuzia l'hai già presa hai rubato con l'occhio un pochettino no, ho fatto anche qualche allenamento e quella prima è stata una grande emozione però cosa ne pensi i tuoi compagni di squadra? ah, che sono delle persone per bene secondo me che sono disposte a lavorare ad essere un gruppo importante tu pensi di avere qualcosa da imparare da loro? sicuramente hai già preso qualche spunto qualcuno che può essere di riferimento per te all'interno della squadra? la punta centrale sicuramente oppure io direi direttore generale Matteo Pivotto meglio di lui eh, anche lui sicuramente comunque Stefano sai cosa devo dirti? che da come parli mi piace un sacco hai tutte le caratteristiche per fare una stagione da vincente non so perché ho questa sensazione che farai qualcosa di veramente importante il solito chi parla poco fa molto e io e Federica saremo pronti a sottolinearlo durante l'anno sì penso che tu non avrai bisogno del nostro imbocallumbo grazie grazie Stefano numero uno allora ovviamente visto e considerato Fede, tesoro mio che siamo a casa di Matteo Pivotto era giusto e corretto concludere questa meravigliosa serata e puntata con il padrone di casa Matteo Pivotto che non ha bisogno di presentazioni no, non perché, perché sono stato poco tempo fa in trasmissione esatto solo per quello allora Matteo, io noi siamo contentissimi di essere stato qua a casa tua a casa del Montebello questa sera bellissima location tra l'altro con la luna piena una bellissima serata fortunatissimi eh sì ma noi siamo fortunati vuoi dire due parole su questa serata? beh, dico intanto è la prima volta che mi capita da dirigente di solito ero protagonista calciatore adesso sono dirigente e mi fa enorme piacere comunque far parte di questo gruppo di questo nuovo chiamiamo progetto per una realtà piccola che è come Montebello ho visto dei ragazzi volenterosi con voglia di fare è una nuova esperienza sicuramente spero sia una bella esperienza anche come risultato beh, anche perché i colori che indossate sono colori propositivi bianco e rosso teoria teoria sì che tra l'altro Federica, ricordiamolo sono i colori che tu non hai mai indossato ma gli hai indossati qualcun altro gli stai indossando qualcun altro esatto eh, tiene il suo alta il valore di casa, no? sì, sì adesso gioco nel Vicenza l'anno prossimo categoria giovanissimi e spero di far bene ma ascoltami Benito ma tu assisterai anche agli allenamenti della prima squadra del Montebello? se lui mi lascia perché subito le prime sere andavo volenteroso e dopo lui e la mamma hanno detto no, vai a letto troppo tardi per cui meglio che stai a casa fantastico Benito allora io direi che a sto punto qua Federica ti darà un consiglio se tu fai i compiti durante il giorno no, ma io li facevo ah, comunque eh sì in ogni caso se non hai letto presto assolutamente sì priorità alla scuola eh sì è giusto eh, va bene però di questo magari ne discutiamo un'altra volta esatto quindi comunque allora sarai presente alle partite della domenica beh sì sì quello sicuro se non ho impegni calcistici però infatti se non sei in giro a tornei in giro per l'Italia bene o male se sei a Montebello sarai presente al campo saranno famosi questo è sicuro giusto Benito bene Matteo noi siamo venuti per portarti fortuna siamo felici di essere a casa tua siamo qua l'abbiamo fatto perché ci teniamo a dare luce spazio al calcio del territorio ancora di più oggi perché abbiamo il piacere di darti anche questa luce con la luna che riflette tra l'altro senti che romantico che so in un contesto voglio dire che è quello del Montebello che si merita sicuramente grazie a te di essere considerata una società importante del nostro territorio paccoscenico vicentino grazie io ringrazio voi che siete venuti qui in amicizia grazie per l'invito l'invito però voi l'avete recepito in maniera penso più che professionale cioè a camera bellissimo insomma robe non da promozione sinceramente da alti livelli e quindi comunque niente sono orgoglioso che siete venuti qui e vi ringrazio Matteo noi ci chiediamo di dare il meglio esatto poi aspetta voi per questa stagione poi vedremo esatto cosa sai cosa c'è Matteo che ci contraddistingue a me alla Federica il fatto che come dicevi prima quando parlavi alla squadra noi ci mettiamo la passione perché quello che stiamo facendo lo facciamo con passione lo facciamo senza interesse ma lo facciamo per trasmettere dei valori dei concetti che sempre di più sono mancanti e sempre di più ce n'è bisogno nel nostro mondo nel nostro calcio visto che parliamo di calcio e questo penso sia quello che noi facciamo arrivare al di là della telecamera e tu ce lo insegni perché sei arrivato dove sei arrivato col calcio perché hai saputo essere protagonista di valori importanti e noi siamo felici di essere qua a casa tua a ricordarlo a sottolinearlo grazie grazie a voi di tutto quello che avete fatto e che farete beh ragazzi cosa devo dire io quando li lasci da soli con una palla questi ometti fanno il disastro guardate cosa stanno combinando appena lasciate un secondo ma cosa state facendo voi due senza di me noi senza di te stiamo provando a giocare a calcio c'era una canzone che diceva bambino non aver paura di tirare un calcio di rigore questo è pazzo allora cosa te ne pensi di questa serata qua tu che ti sei messo qui a giocare a pallone e gonfiano molto bella per questa presentazione del montebello calcio mi sembra una cosa molto adatta se non ti ti quanti anche perché Federica lo sai che promessa che mi ha fatto Benito che promessa ti ha fatto mi ha promesso che mi regala la maglia del padre non ci credo dovessi morire non ci credo guarda che hai dato la stretta di mano Benito uno di noi Benito uno di noi ringraziamo chi ci ha visto da casa oggi ringraziamo assolutamente tutti i telespettatori che sono stati incollati al telescarno per guardare questa bellissima serata bellissima location bellissima serata bellissima gente una bellissima squadra in questa in questa lunedì d'agosto di luna piena siamo vicini al 10 di agosto quindi stelle cadenti o stelle nascenti o stelle nascenti bellissima stelle nascenti quindi ci vediamo lunedì prossimo sempre 17.30 sempre su TV a Vicenza e sempre con questo grande sorriso che ci contraddistingue grazie e arrivederci